Dopo tempo in cui non se ne avevano più notizie, di recente ecco che si è tornati a parlare di Luca Carboni, uno degli artisti simbolo degli anni 90 e non solo. Un cantante che ha segnato un'epoca e che appunto era sparito dalle scene, ma per un buon motivo. Carboni stesso infatti ha fatto una rivelazione shock sulla sua salute e sul perché era sparito per due anni dal mondo della musica. A marzo del 2022 mi è stato diagnosticato un tumore al polmone, ha spiegato al Corriere della Sera, viviamo in un mondo in cui tutto è complicato sempre. Io invece ho seguito il mio estinto, il mio carattere, mi sono messo da parte, ho staccato ogni contatto con i social, mi sono concentrato su quello che mi stava succedendo senza comunicare. Il cantante bolognese, classe 1962, ha raccontato le emozioni provate quando ha scoperto di avere la malattia. È stato uno shock, in pochi minuti tutto è cambiato, ha detto dalla scelta dei brani sono passato alla scelta delle terapie per sopravvivere. Il tumore era grande e difficile da operare. Luca Carboni ha parlato anche delle cure massicce alle quali si è sottoposto al Policlinico Sant'Orsola. Il tumore si è ridotto di molto e ad agosto ha consentito l'operazione per asportarlo. Per fortuna non c'erano metastasi e dopo l'intervento abbiamo continuato con l'immunoterapia. Dopo due anni posso dire di essere tecnicamente guarito, anche se con questo tipo di malattia questa parola ha un significato fragile. Il cantautore, ricevuta la dolorosa notizia, ha dovuto fare conti anche con l'idea della scomparsa. Dalla notizia, dalla lastra, soprattutto dallo sguardo del radiologo, ha raccontato ancora il cantante, mi ero convinto di avere poco tempo. Ho pensato alla morte per la prima volta come una possibilità concreta, ma devo alla scienza medica il ritorno assai presto di una ragionevole speranza. Non ci credevo, immaginavo fosse una necessaria consolazione, eppure mi sono aggrappato a quel barlume di luce. Ho pensato due cose che dovevo fidarmi dei medici e affidarmi al destino, combattendo a modo mio. Comunque anche quando vedevo la fine come eventualità possibile mi sentivo felice. Ho fatto una bella vita piena di luce, di gioia e di amore. Il mio percorso è stato faticoso e carico di soddisfazioni. In questi due anni, poi, ha continuato Carboni, mi ha aiutato molto la pittura, che è sempre stata la mia altra passione. Il mio rientro nel mondo avverrà a novembre nella mia Bologna, con una mostra curata da Luca Beatrice e prodotta da Elastica, con quadri, disegni e lo storyboard del primo video che ho fatto, oltre a Block Notice, sui quali ho gli appunti di ogni mio album. Coinciderà con i 40 anni dal mio primo disco. Nel futuro di Carboni non potrà certo mancare la musica, infatti ha spiegato voglie di riaprire la porta della mia vita, di ritrovare le persone. Dopo la mostra rimetterò mano alle canzoni che stavo registrando quando mi hanno scoperto il tumore e ne aggiusterò altre. Poi forse farò anche un tour. E allora noi gli auguriamo naturalmente il meglio, riascoltando insieme una sua canzone che ci porta al 2015, esattamente a Luca lo stesso, come proprio un auspicio di essere sempre lo stesso anche dopo questa brutta esperienza.